Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi faccio un bel caffè, perché voglio sistemare, vediamo, decidi, nei cartoni non ho visto già il supermercato, perché ho detto a Vali, oh io inizio a mettere nei cartoni del supermercato, perché tu non arrivi mai. Poi si è rotta la macchina, sta comprando la macchina nuova, sta andando a vedere una macchina, va avanti e dietro, finisce di lavorare, va là, 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 là. Comunque, oppure inizio a tolle, perché qua sta un macello, volete vedere? È orrendo come sta qua. Cioè io mi vergogno io stessa, guarda, qua è tutto ammassato, non so se riuscite a vedere, è tutto ammassato. Allora, facciamo così, ora che non ci sono le bambine, ragazzi, io oggi non vi riprendo in tira perché sto nuda, perché fa troppo caldo, guardate come sta, anzi no, là c'è lo specchio, si vede. Sto con la mutandina e questa canotta così, perché fa troppo, troppo, troppo caldo. Mettermi un pantalone, ma anche no, quindi li prendo a mezzo busto, tipo signorina del TG, signorina. Quindi si stimola nell'armadio, sì. Adesso vi faccio vedere velocissimo quello che ho preso, due cavallette così, anche perché le bambine hanno detto che vogliono pasta e patate. Ho la carne di cavallo per loro, e per me non lo so. Ah, ho un piatto di pasta di ieri, del pomodoro al forno, me la mangio io, anzi me la esco, ho i fagiolini lessi, e ho le melanzane che ho fatto ieri. Le frittelline no, perché se le sono divorate, che erano buonissime. Poi ieri sera amici non uscì, e disse, mamma mi fai la pizza, no, la impassai io, perché erano le otto e mezzo, come me lo disse. Ho preso le basi fresche della pizza, vi faccio vedere quelle che facciamo noi qui a Barletta. Una piadineria di Barletta le fa lei, noi le compriamo, ma anche i panifici da noi fanno le basi stese e da condire. E ci sono anche quelle a posto. Ora vi faccio vedere, ho preso una rete di patate, sale per la vastoviglia, un bel mazzetto di peperoncini che a noi piacciono, gli anacardi, vabbè le bambine queste non le devono prendere mai più, plum cake, non c'erano integrali, ho preso questi. con 5 stelle alla marena, panini sandwich, i kefir mousse, che sono buonissimi, mi sono preso questo naturale per me, e dopo vediamo, ah si è rotto questo kefir, per mamma, la pasta per fare con le patate, due di latte e due burrate al pesto di basilico, sempre pugliesi nostre. e due bale d'acqua che dopo andranno a prendere, quindi questo è quanto, ora caffettino. ragazzi, se ho fatto un caffè qua, ho buttato prima l'acqua, perché è da molto che non la usiamo, questa macchinetta, ho fatto un bel po' di acqua a buttare, l'ho buttata nelle piante. e ora mi faccio questo caffettino di qua perché si sta benissimo. e devo pulire qua perché Alice mi fa il macello. guardate, devo togliere col sacco, questo è ancora qua eh, anche se stavo pensando di riempirlo di panni e farlo scendere giù. tanto ottenere i capanni, ottenere questo è la stessa cosa, quasi quasi. ottenere i cartoni, è vero che non ci vanno tutti, però stavo pensando proprio questo. ora chiudo a Bali, cosa dice? ma, vediamo, mamma mia, che buono, l'amorbidente. il mio tesorito oriente, quello turchese, buonissimo, mamma mia. quasi quasi, lo pulisco. metto i panni dentro. e sono già due cartoni. tanto impilare i cartoni giù e tenere un mobile è la stessissima cosa. chiedo a Bali, chiudo e messaggio. no A. no A. no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho sistemato un po' in camera nell'armadio però non è come dico io, servono i cartoni e ora vi faccio vedere. Vado a prendere i bambini, fa caldissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.